Ciao tesoro, come sta la mia consigliera bravissima, mi parlano tutti così bene di te amore che mi fai un piacere, davvero amore, tutti quelli della Lega, i nostri, ultimamente Giorgio Pulicelli. Dai, bene, sono contenta, sai? Bene, bene. Tu sei contenta? Molto, certo che sono contenta, sono felicissima, assolutamente sì. Poi quando ci sono le elezioni viene in Parlamento. Ovvio, certo, ma mi sa che io mi schiero dalla parte di Libertà e Futuro dell'Italia. E dai, la battuta, lì. Sì, sto ridendo, siamo comunque in un bel guaio. Mamma mia, mamma mia, tremendo, guarda. Hai letto però il giornale? Quando, oggi? Sì. No, oggi no ancora. Cioè questo qui ha preso questo appartamento da una persona che l'ha lasciata in eredità al suo partito. Sì. E l'ha venduto, il valore era a 2 milioni di Euro. Sì. L'ha venduto per 67 mila Euro praticamente a se stesso. Sì. Non è vero. Sì, e ci ha messo dentro o al fratello della moglie che ci abita. Il tutto a Monte Carlo. Sì. Attraverso una società offshore. No. E poi si riempie la bocca di parole come moralità e legalità. Sì, 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 sì. E sai dove abita? No. Abita nella casa della sua compagna. Sì. La casa che la sua compagna ha fottuto Gaucci che gliel'aveva intestata per non farsela sequestrare dai creditori. Ma ti rendi conto? E poi quando ha finito le cose gliela chiesto indietro, non gliela più dato indietro. Ma sono i peggio, ma è il peggio lui, ma è il peggio. Cioè ma è una cosa pazzesca, ma è una cosa pazzesca, uno schifoso. E adesso come facciamo a tenerlo lì Presidente della Camera. I giornali non ne parlano, c'è solo il giornale libero che ne parlano. Questa è anche la cosa schifosa. I famosi giornali liberi della stampa italiana, ma fanno schifo. Sì, sì, è vero, è vero. Mi ricordo che avevo letto un articolo bellissimo che aveva fatto Fedri, se non mi sbaglio, un po' di tempo fa su una casa di Demita, addirittura a Roma, no? Sì, sì. Del fatto che l'aveva presa da lì, infatti alla fine poi i giornali non ne parlano. Sì, ma qui non è uno sconto sull'affitto o un coso, ma così è il fatto che uno ruba al suo partito. Sì, sì, è uno schifo. Lui non è neanche iscritto al partito, ma tu lo sai questo? Sì, a noi non è iscritto. Non è iscritto? No. Quindi praticamente adesso dobbiamo farlo fuori perché ce l'ha su con noi in maniera, ho un odio con me per i giornali, per tutto che è insopprimibile. Sì, ma è invidioso perché comunque... Va bene? Senti, io sono in guerra, cosa fate in vacanza? Voi dove andate? Tu e la Barbie state insieme? Non lo so ancora, non abbiamo parlato. La Barbie come va? Bene, sta bene, sta bene, assolutamente, sta benissimo, lei è brava, sta studiando. Bene, ottimamente. Mi ha detto Giorgio che siete stati a Villa d'Este? Sì, siamo andati a Villa d'Este, che c'era anche Giorgio Pozzi e tutto, sì, siamo stati bene, tranquillo. Sono matti comunque. Cioè? Eh, sono matti, dai. Giorgio Pozzi è matto come un cavallo. Eh sì? Sì, mamma mia. Perché? Ma perché sì, perché è matto, per ridere, è simpatico, ma è matto. Aveva lì una rumena, aveva. Aveva una rumena? Ti giuro. Ma presentabile o no? Fighissima. Eh? Fighissima. Ah, fighissima, allora? Sì, sì. E tra l'altro molto amica la Flo, pensa a te. Pensa un po'. Sì. Ma quale Flo? Hai visto che ha fatto quelle dieci pagine con Ron Cucci? Sì, sì, sì. Che vergogna. Mamma mia, non si può, non si può. Vabbè. Senti, amore, dove sei? Tu a Rimini o a Milano? No, io sono a Milano. Sono a Milano. Sì. Io purtroppo sto partendo per Roma. Eh, lo so, perché domani sei... sono i senatori, eccetera. Ma quando parti? Che era parti? Eh, parto adesso. Ah, sì? Sì, sì. E poi c'ho questo braccio che mi fa ancora male, non riesco nemmeno a tenere in mano la cornetta del telefono. Ma ancora? Ancora, ancora. Non si riesce a capire che cos'è. Mamma mia. Preparati a vedermi con un braccio suo. Ma ecco, è subito esagerato, esagerato, subito. Ma senti, ma lo sai che l'altro giorno è venuto da me in consiglio Giuliante a parlarmi della storia della Ruby? E Giuliante chi è? Giuliante è l'avvocato del PDL e nonché l'avvocato di Lele, no? Eh. E praticamente è venuto lì perché lui ha chiamato la mia assistente, ha detto guarda che devo parlare con la Nicole, dopo la Nicole è venuto in consiglio e praticamente mi ha raccontato tutta la storia che c'è questo PM di nome Forno che sta seguendo il caso, che praticamente dice che secondo lui non adesso, ma a settembre mi chiamerà perché comunque sia la Ruby che l'altra stronza della Michelle hanno fatto il mio nome. E quindi niente, mi ha raccontato un po' come stanno andando le cose, eccetera, perché hanno aperto un'indagine su questa Michelle, perché in effetti è vero che la Ruby l'ha denunciata. Cioè la Ruby ha denunciato Michelle? Sì, per induzione alla prostituzione. Ma no, per una si dà la patente di puttana? Sì. Da sola. Te lo giuro. Ma no, ma no, ma no. Quello che è importante è che ci siano diverse persone che testimonino, come a noi aveva detto che aveva l'età diversa da quella che aveva. Certo, chiaro, certo, certo, certo. Una volta che succede quello non succede più niente. L'abbiamo soltanto aiutato perché ci faceva pena. Sì, perché ha detto che questo c'è anche delle foto in mano a questo forno. Chi gli ha dato la Michelle? Ho capito. Vabbè, speriamo che non venga fuori un casino. No, ma speriamo. Va bene, basta poco perché quando si tratta di me e tutti i giornali sono contenti. Eh, lo so, infatti è quello. Vabbè, comunque non abbiamo fatto niente di male. No, ma infatti. Non ci aveva preso in giro. No, infatti, infatti, infatti. Va bene, ottimo. Ciao, allora, ti chiamo in questi giorni e poi ci vediamo alla fine della settimana. Va bene. Se sei ancora raggiungibile. Va bene, un bacio grande. Ciao, amore. Ciao, ciao.